Sportivi e tifosi, gli highlights di questa settimana del settore giovanile del Montecchio Calcio sono gentilmente offerti da eredi Nutti Metalli che si trova in Via della Volta, Brescia. Un grazie anche a Y Sport, un'azienda bio vita a gruppo dal 1999 e un grazie anche a Media Pack con sede a Montebello Vicentino, località Francanzana 23. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.